Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Brawl Stars che non è mai diventata la nostra serie delle sette a scalzare i gamberetti e adesso abbiamo loro i nostri guerrieri di Brawl Stars che ci fanno compagnia ogni giorno alle sette Ragazzoli, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e vi ricordo di lasciarli così cresciamo tutti quanti assieme e vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite il link che trovate in descrizione al video detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo con il video di Brawl Stars Ok signori miei, allora, 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 noi intanto abbiamo, cioè andrei che è online, però non lo disturbiamo raga qualche volta organizzo, vi ho messo una live o comunque vi informo, gratuita, andiamo a prendere sto coso gratuito via via, facciamo piacere il nostro pocio, punti di energia per il nostro pocio, sette punticini non fanno tantissimo, però, però, però fanno, fanno le altre dovremmo spendere le monete, ma non spendiamo assolutamente niente noi siamo completamente fermi, io faccio rivedere il mio ID, raga, e i miei amici, che in questo momento è la mia lista degli amici sono, dai, sono terza come classifica di coppe, 182 dai, non si è proprio messo male, certo c'è Andrea che ne ha 21.000, è irraggiungibile, però va bene piano, 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 ragazzuoli, oggi andiamo a sbloccare gli eventi, che mi avete detto che ogni 24 ore c'è una nuova mappa quindi per questo mi spuntano sempre nuovi eventi, allora, signori miei, oggi con la nostra Shelly Super Saiyan andiamo a provare Foot Browell, signori miei, vediamo un attimino come funziona, se riusciamo a fare qualche vittoria se riusciamo a fare qualcosa di carino, vediamo un po' di preciso come funzioni, però vediamo un attimino ci proviamo, ci proviamo, eh, eh, sì, che dobbiamo fare, come si piglia il pallo, io già sono morto, che cosa bellissima, sono già morto prendi la palla, sì, se magari mi fai tornare anche in partita, ne sarei molto grato, prendiamo la palla, ok la nostra Super Saiyan, dove stai andando, recuperiamo la palla, dai, dai, dai Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo guarda che dribbling, no, siamo morti al centrocampo, mamma mia che cosa brutta, ma, ehm, ah, ci sono due minuti di partita ok, due minuti di partita, riesci a farmi tornare in campo, ok e che devo, la cosa è complicata, perché devo sparare e recuperare il pallone, e portare il pallone in porta, ok ce la posso fare, ce la posso fare, dai, 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 il nostro compagno sta arrivando in aria dai, dai, tirala, tirala, tirala zio, tirala zio gol, abbiamo segnato, una zera per noi, bello, non so chi tu sia, ma è tutta la mia stima, amico mio e non rompete le scatole, ora vi ammazzo tutti, vi ammazzo tutti, super scopo, grande, grande ti copro le spalle, ti copro le spalle, tirala, 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 che cazzo, perché si è fermato lì ma, ha segnato, partita conclusa, 2 a 0, ah, si finisce con 2 a 0, grande prima partita con questo brawl, football, abbiamo vinto signori miei, ma bella così ma mi è piaciuta, non so, scegli Super Saiyan e sale anche a livello 8 tante coppe per noi, nuovo grado, ok ragazzolo lì, ok, 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 facciamo un'altra partita con il nostro footbrower, dai, riproviamoci di nuovo, la prima è andata bene, la prima è andata bene proviamo a fare un'altra partitonza, proviamo a fare un'altra partitonza vediamo se questa volta riusciamo a vincere, questa volta riusciamo a vincere di nuovo e soprattutto vediamo se riusciamo a fare qualche gol, anche noi, no, 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 no recuperiamo il pallone, recuperiamo il pallone, vialo, vialo, dai, 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 copritemi le spalle, copritemi le spalle sono il vostro Ronaldo, sono il vostro Ronaldo, ragazzi, sono il vostro Ronaldo, mannaggia dai, 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 calma, 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 grande dribbling, no, mi hanno ammazzato porca miseria, ci riusciamo ad avere un pallone? No dai, 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 con calma, dai, con calma, dai, con calma dai, 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 recuperiamo il pallone, recuperiamo il pallone Ce lo possiamo fare, ce lo possiamo fare No, 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 non avete dove andare Non avete dove andare Strangere il recupero del pallone Ah, ce l'ho io il pallone, dai, dai, no, siamo morti Al limite della nostra data di rigore Fuori quel pallone, fuori quel pallone No, 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 dai, dai, rimettimi in lì No, Cox ha segnato, mannaggia Ha fatto tornare in vita troppo tardi No, 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 no Scegli, scegli, mannaggia a te Nostro Super Saiyan oggi non si sta riuscendo a fare rispettare Dai, 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 riparti, riparti, riparti La palla è nostra, è blu, è blu, è blu Dai, ce lo possiamo fare, dai, che ce lo possiamo fare Dai, 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 esce lì Perché questi stanno sparati a me quando... Dai, dai, tira, 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 tira Pareggiato, TikTok ha segnato TikTok ha segnato, signori miei Bella così, bella così Dai, 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 difendi, difendi Sparisci, sparisci Che tanto l'orora, vedi, vedi, vedi Bello, recupera il pallone, recupera il pallone Recupera questo cazzo di pallone Andiamo, 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 andiamo Dai, sce lì, dai, sce lì, dai, sce lì, difendi Dai, sce lì Dai, sce lì, grande il dribbling Grande il dribbling Entra in aereo di rigore Sce lì, segna il gol partito, sce lì La nostra super saian Mammaa che dribbling che abbiamo fatto Bella così, vittoria per noi Alla grande, ma mi è piaciuta questa partita Incredibile, sce lì Mitica amica mia, grande Andiamo a giocarci nuovamente il footbrawl Però questa volta ce l'andiamo a giocare con il nostro Little Tony, signori miei Yes, con il nostro Little Tony Facciamo crescere anche lui Footbrawl Vediamo se è altrettanto bravo come Shelly, signori miei Come il nostro super saian Vediamo cosa riesce a fare Ok Proviamo, proviamo Subito, subito Allora, non partiamo subito Perché prima si ammassano tutti quanti, vedete E noi recuperiamo il pallone E andiamo Velocemente Uccidiamoli dopo Uccidiamoli dopo Grande, grande Dai, 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 dai Lui va di là e noi andiamo di qua No, dove è arrivato quello là dietro? Porca miseria, non l'ho visto Ma porca di una paletta ambriaca Dai, 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 dai Riportami in vita, riportami in vita Riportami in vita Il pallone sta arrivando qua e non è buono Questo che tira gli acidi è insopportabile, raga Questo che tira gli acidi è insopportabile Dai, 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 dai Coprietemi le spalle Coprietemi le spalle che c'ho il pallone Devo recuperare un po' di vita Devo recuperare un po' di vita Devo recuperare un po' di vita Dai, 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 dai Tirala, tirala Tirala, tirala Ma porca di una paletta ambriaca È lì il pallone Dai, dai, pila, pila e tira La pila e tira Segna, segna, zio 1-0 Grande blu Grande blu 1-0 per noi Questi già stanno a sparare Dai, dai Porca di miseria Come non mi sopporto Ok L'obiettivo La cosa intelligente Non è partire subito A conquistare il pallone La cosa intelligente Addirittura Guarda come li drippla Guarda come li tira No, l'avevo dripplato Ero riuscito a fregarli Ero riuscito a fregarli Porca miseria Dai, rientriamo in partita Dai, rientriamo in partita Ok, ci serve un gol Dai che rientriamo in partita Dai, no Hanno conquistato palla loro Hanno conquistato palla loro Palla libera Questo Non lo soppo Questo che ti ha le palle Non lo sopporto, raga Dai, dai, dai Recupera la palla Recupera la palla Dai, dai, dai Dai, dai Dai, dai Tirala, tirala Tirala, tirala Mannaggia L'avevo tirata No, siamo morti nell'acido Mannaggia L'avevo tirata bene Porca miseria Porca miseria Dai, dai, dai Dai, dai Allora, sono di tutti i livelli simpatici Questi di Bro Stars Questo del calcio è troppo forte Muori, devi morire Dai, 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 zio Ti difendo io Ti difendo io Ecco, appunto Sono morto male Dai, raga, dai, raga Siamo due Due contro zero Due contro zero Dai, 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 dai Pallone è nostro Pallone è nostro Vediamo se stengono No Pallone è libero Pallone è l'acido Pallone è libero Devi morire Devi morire Ok Vabbè, recuperate il pallone Non ho già più vita Però ce la posso fare Se evito questo con gli acidi Forse ci riesco Forse ci riesco Raga Forse ci riesco No Sono morto sulla linea Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sono morto sulla linea Raga Ma dai Ma non ci fa Così No, 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 no Fuori questa palla Fuori questa palla Che c'è il conto della rovescia Abbiamo vinto Partita con il giro Sono 1-0 Abbiamo segnato No il gol Vittoria 1-0 Bella così Raga Il nostro Il nostro Little Tony Riesce a portare a casa la vittoria Comunque stavamo segnando i gol di Vittoria Ci hanno bloccato per pochissimo No raga Per ora non posso accettare gli invidi ai gruppi Perché sto registrando Raga Quindi Mi dà la squadra Per ora no Per ora no amico Va bene ragazzoli Detto questo io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i esigeni E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao